Iniziamo con l'oggetto numero 8, risponde l'assessore Melasecche, interroga il consigliere Bettarelli, misure e azioni a sostegno del pagamento dei canoni di locazione per i dipendenti autonome, imprese, famiglie e studenti che a causa del Covid hanno subito perdita di lavoro o riduzione del reddito. La parola al consigliere Bettarelli. Grazie Presidente. L'interrogazione che ho trasformato in interrogazione per portarla al question time, in realtà era un'interrogazione a risposta scritta che avevo presentato depositandola il 6 aprile, ma visto che al 25 giugno non ho ancora ricevuto risposta scritta, ho pensato di trasformarla in appunto portarla al question time per avere una risposta. Nella interrogazione ponevo quindi nei primi giorni di aprile, in piena crisi, emergenza, coronavirus, alcune questioni legate a quelli che sono i costi relative ai canoni di locazione, agli affitti, in particolar modo degli studenti universitari, essendo la nostra regione insomma una delle realtà che ospita un'università insomma fra le più importanti a livello mondiale e anche la questione comunque legata a quelle famiglie in generale in difficoltà a causa appunto della magari riduzione del reddito rispetto alla possibilità di poter ottenere dei supporti, degli aiuti per quelli che sono comunque i pagamenti dei canoni di locazione che potevano essere diventati troppo nerossi rispetto appunto ad una carenza, ad una mancanza di reddito causa, ripeto, causa emergenza coronavirus. Con grande piacere ho avuto modo di vedere la, ovviamente il 6 aprile non potevo saperlo, ho avuto modo con piacere di leggere la delibera di giunta del 22 aprile, la numero 298 in cui veniva istituito un fondo pari a 500 mila euro per il supporto agli studenti universitari, quindi con quegli studenti che avevano, le cui famiglie avevano un ISEE inferiore a 35 mila euro, avevano la possibilità di avere fino a 250 euro per quattro mesi di sostegno rispetto all'affetto. Credo che sia una misura importante che va nell'ottica un po' anche di quella che era la mia interrogazione e quindi aggiornando un po' il quesito rispetto alla data, insomma, ripeto, a cui era stato presentato, vorrei a questo punto sapere, visto che ho notato che l'Adisu ha provveduto alla stesura dei dibande, alla pubblicazione, se ad oggi è possibile sapere quindi quante domande sono arrivate, se si può dare risposta a tutti coloro che hanno presentato domanda e se quindi il fondo di 500 mila euro che era stato previsto è capiente o si verrà incrementato. Questo poi ce lo dirà l'assessore Melasecche o Agabiti, poi direte voi chi. Ho notato anche, non lo dico per fare polemica, ma che nella delibera e negli atti istruttori si fa riferimento a 10, 12, forse anche più, considerato che, anche giustamente lettere che vi sono arrivate dai rappresentanti degli studenti universitari... Ah, ho finito il tempo? Concludo quindi dicendo che ecco, non ho notato nei premesso che c'era comunque anche una sollecitazione da parte delle minoranze, ma questo può anche essere superfluo, l'importante è dare le risposte. E rispetto, concludo velocemente, a quella che è il cosiddetto quindi bonus affitti rispetto alle famiglie, vorrei capire se quindi, come ho letto, quel fondo è stato incrementato di circa 2 milioni per arrivare ad una somma di circa 5 milioni virgola 2 e quindi capire lì le risorse da dove arrivano, chi le ha messe e al di là quindi di questa operazione che ritengo sia comunque sufficientemente interessante perché va incontro in maniera specifica agli universitari e riprende uno strumento che già c'era, ma l'ha, come dire, dotato di una strumentazione finanziaria più importante. Concludo con la domanda che sostanzialmente appunto è capire se c'è la volontà da parte di questa amministrazione di proseguire rispetto a quello che è stato fatto anche con gli studenti universitari all'inizio del nuovo anno scolastico, al nuovo anno universitario, perché credo che la crisi c'è, purtroppo non sarà breve, quindi credo che serva comunque un supporto anche continuativo e per il futuro. Grazie. Assessore Melasecche. Il tema, come correttamente richiama il consigliere, riguarda più assessorati in qualche modo perché ha calcato in modo particolare nel suo intervento l'aspetto degli universitari, a cui ha dato una risposta, credo puntuale, la collega Gabiti, riguarda in parte le imprese, a cui il collega Fioroni ha dato altre risposte, riguarda il sottoscritto per quanto riguarda l'aspetto delle politiche per la casa. Io ho una risposta, diciamo, abbastanza dettagliata di quattro pagine che posso consegnare e che non potrei leggere in questo momento e che riguarda appunto il caso a cui lei faceva riferimento e cioè al fatto che sul fronte dell'aiuto alle famiglie meno abbienti c'è un contributo complessivo di oltre 5 milioni che è stato ripartito fra i vari comuni in base ai criteri del numero degli abitanti fondamentalmente e che i comuni hanno in qualche modo già impostato i relativi bandi entro il 15 giugno per dare una risposta alle moltissime famiglie che attendono un contributo in quel senso. A questo si aggiunge il fondo a favore degli inquilini morosi incolpevoli che in qualche modo va incontro ad una categoria però così specifica che in qualche modo normalmente non ha il numero di richiedenti tali per cui sembra incredibile, ma vero, ma avanzano fondi che poi vengono però utilizzati sul fronte del bando di cui parlavo prima. Quindi per quello che riguarda la Giunta ritengo che ci sono state misure puntuali, importanti sia sul fronte degli studenti, sia sul fronte delle imprese con tutti i provenimenti impostati dall'assessore Fioroni per quanto riguarda le politiche per la casa la risposta mi sembra forte utilizzando sia fondi governativi, sia fondi che avevamo a disposizione precedentemente e che, lo ricordo, non per polemica, in passato non erano stati utilizzati su questo fronte negli anni precedenti. Le consegno questa nota di quattro pagine per avere puntualmente una risposta puntuale per quanto riguarda le politiche della casa. Non so se gli altri colleghi possono, intendono intervenire. Grazie. Posto così, consigliere Bettarelli, perfetto. Oggetto numero 10, risponde l'assessore Coletto interroga il consigliere Mancini, do la parola al consigliere Mancini. Buongiorno, grazie Presidente. Assessore, naturalmente si avviciniamo al periodo estivo. So che ovviamente la Giunta ha già provveduto però questa interrogazione è datata primo giugno 2020 quindi il contesto è quello appunto del primo giugno. Vista la nota del 26 maggio 2020 del dirigente del Citro dell'azienda ASD Umbria 1 con la quale ha comunicato che ad oggi permangono le condizioni di sospensione dei congedi ordinari del personale sanitario e tecnico e che per il servizio infermieristico sono interessati i profili di infermieri infermiere pediatrico, aiuti, OSS e AS considerato che nella medesima nota si precisa di prevedere periodi di ferie estive non più lunghi di 5 giorni a rotazione fermo restando la necessità di rendersi disponibile per ogni eventuale richiamo in servizio ricordato che il diritto ad un periodo annuale di ferie detribuite costituisce un principio costituzionale così come è sancito l'articolo 36,3 della Costituzione che ne prescrive l'irrinunciabilità il lavoratore ha diritto a ferie annuali detribuite e non può rinunziarvi ricordato altresì che l'articolo 33 del contratto collettivo nazionale del lavoro e del comparto sanitario il 21 maggio 2018 dispone tra l'altro che le fruizioni delle ferie deve avvenire assicurando al dipendente che ne abbia fatto richieste il godimento di almeno 15 giorni consecutivi di ferie nel periodo del primo giugno al 30 settembre considerato che la misura della sospensione dei congedi non è stata più riproposta dei provvedimenti adottati dal Governo nazionale dopo il 18 maggio 2020 ricordato che la cronica carenza di personale sanitario e tecnico dell'azienda sanitaria regionale può essere superata solo con l'assunzione di personale in modo da poter garantire la regolabile funzionalità di tutti i servizi anche durante il periodo estivo tutto ciò premesso è considerato interroga la giunta regionale per conoscere le azioni che intende adottare in merito alla sospensione dei congedi ordinari del personale sanitario e tecnico disposto azienda ASD Umbria 1 Assessore Qualetto Grazie Presidente Con riferimento a quanto disposto della lettera E dell'ordinanza della Presidente della Regione nel 4 marzo 2020 in attuazione delle misure urgenti adottate dal Governo in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 con particolare riferimento alla sospensione di congedi ordinari del personale sanitario e tecnico nonché del personale le cui attività siano necessarie alle attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale si precisa che per effetto della mancata riposizione della sospensione in argomento nei DPCM successivi a 18 maggio la Direzione regionale Salute e Welfare con nota 91.629 28 maggio l'ultimo scorso ha comunicato alle aziende sanitarie regionali nel superamento di quanto disposto nel provvedimento regionale evocato in pari data dall'articolo 3 dell'ordinanza Presidente della Regione numero 29 grazie Consiglio Mancini per la replica ovviamente Assessore ne sono soddisfatto anche perché dopo due giorni non da quanto ho posto io l'interrogazione ma che chiaramente non ne poteva ancora conoscere la sostanza ma di sua iniziativa ovviamente e quindi tutto l'assessorato ha reagito a quella che per me Assessore ne faccio una lieve nota di polemica assomiglia a una zelante presa di posizione di qualche dirigente richiamando in quella lettera una fattispecie di richiamo che era stato ampiamente capito e noto all'opinione pubblica che quelle ordinanze sono state superate quindi quella lettera di sospensione per me Assessore ha assunto il carattere di non coordinamento con la sua figura e quindi l'ho considerata e la considero oggi inopportuna e bastava semplicemente prima di divulgare questa nota una semplice telefonata di raccordo perché lei sapeva benissimo come tutti sapevano benissimo che quella questione era stata ampiamente superata qualche volta si è particolarmente zelanti quando c'è da fare qualcosa ovviamente non mi rivolgo a lei e mi rivolgo al quadro trigenziale che ha scritto quella lettera la ringrazio oggetto numero 12 risponde l'assessore Melasecche interrogano carissimi pastorelli Fironi, Mancini, Nicchi, Peppucci, Rondini credo che illustri carissimi prego grazie presidente il tratto stradale Terni-Orte rappresenta un'infrastruttura nevralgica non solo per la regione Umbre e per i territori che attraversa ma anche come asse viario tra le regioni Lazio e le regioni Marche e le regioni poste al nord come tutti noi sappiamo a seguito di un'ispezione avvenuta nel mese di maggio si è verificata un'anomalia tale per cui si è ritenuto opportuno comunque chiudere il viadotto Montoro che si inserisce all'interno di quel tragitto con importanti disservizi per tutta la viabilità sia per quello che riguarda le aziende sia per quello che riguarda le persone in ragione di questo chiaramente il costo in relazione a tale problematica investe non solo le persone ma anche le aziende che sono costrette ovviamente ad avere lungaggini di consegna e trasporti nettamente più lunghi a quanto era previsto tutto questo poi si inserisce in più a seguito della problematica Covid e fondamentalmente minaccia ancora di più tutto il traffico turistico che nella nostra regione è lecito attendersi per i mesi estivi ricordiamo infatti che tanti romani hanno seconde case nella nostra regione quindi avranno delle serie difficoltà per raggiungerle in ragione di questo interrogo l'assessore al fine di conoscere la situazione attuale nonostante chiaramente gli articoli di stampa hanno in una certa misura chiarito tuttavia per sapere il tipo di intervento che è previsto sul viadotto e soprattutto i tempi per ritornare alla normalità grazie Assessore Melasecche il primo giugno a seguito di un controllo programmato l'ANAS ha disposto la chiusura in entrambe le direzioni del viadotto Montoro situato al chilometro 24 più 250 della strada statale 675 Umbro Laziale direttrice Terni Orte tra gli svincoli di Narni strada statale 3 e Montoro in provincia di Terni è chiaro che si tratta di un'arteria fondamentale perché costituisce l'ingresso sud dell'Umbria quindi dal Lazio i motivi sono evidenti a tutti turistici traffici è un'arteria essenziale il provvedimento dell'ANAS è stato disposto per garantire la sicurezza della circolazione in seguito agli approfondimenti tecnici che hanno evidenziato la necessità di un intervento urgente di ripristino strutturale su uno degli elementi del viadotto una pila di fatto che si è piegata ho portato l'esempio della torre di Pisa per rendere l'idea ma si tratta esattamente di un caso di questo genere per contenere al minimo il tempo di esecuzione ho seguito personalmente dal primo minuto fino a tutte le fasi attuali l'ANAS ha prontamente pianificato un intervento che consentirà di riaprire il traffico appena possibile cioè in entrambe le direzioni su una corsia per senso di marcia l'intervento effettuato con tecniche altamente innovative come già illustrato peraltro nel corso del suo paraluogo che ho effettuato in cantiere lo scorso 12 giugno consiste nel sollevamento degli impalcati cioè delle travi orizzontali e nel ripristino della verticalità della pila con speciali martinetti idraulici questa complessa operazione consentirà di evitare la demolizione di due campate del viadotto riducendo notevolmente la durata dei lavori il completamento estimato per la fine del mese di luglio in caso di esito positivo poi di alcune indagini tecniche alla base della pila sui pilastri sottostanti la riapertura potrà riguardare anche i veicoli pesanti ad esclusione dei trasporti eccezionali eventuali lavori di consolidamento dell'opera determinati dall'esito delle indagini saranno seguiti in costanza di traffico successivamente alla riapertura l'impresa esecutrice già individuata grazie ad accordi quadro stipulati dall'ANAS in precedenza lo scorso 10 giugno in via d'urgenza ha già avviato ha immediatamente avviato le operazioni propedeutiche al montaggio di martinetti idraulici le attività sono in corso tramite una piattaforma by bridge l'ANAS contestualmente sta provvedendo al potenziamento della segnaletica lungo i nuovi percorsi alternativi individuati dalla prefettura di terni nell'ambito del cov comitato operativo viabilità a cui ho partecipato a tutte le sedute mentre le squadre del personale su strada sono impegnate nell'assistenza agli utenti in coordinamento con le forze dell'ordine c'è stato ad onor del vero una fase problematica in cui gli autotreni comunque passavano creando problemi come hanno sollecitato in qualche modo provvedimenti sindaci però questo era dovuto fondamentalmente al fatto che alla rotonda di Orte la polizia stradale di competenza della prefettura di Viterbo non era lì a obbligare gli autotreni a dirottare salvo quelli che sono interessati ad attività produttive locali per cui quelli erano comunque e sono comunque autorizzati ad entrare l'ANAS ha avviato altresì una campagna informativa tramite radio giornali web vado a concludere presidente e social media per informare l'utenza sui percorsi alternativi l'ANAS provvederà comunque a favore dei comuni interessati a ripristinare i manti stradali che dovessero risultare danneggiati dopo questa fase tutto è avvenuto in perfetta collaborazione con le forze dell'ordine e ovviamente le prefetture delle varie province interessate al momento i lavori stanno procedendo sono avvenute le gettate di cemento e tra pochi giorni dovrebbe iniziare l'operazione di riportare sulla verticale la pila e riabbassare quindi le travi per ripristinare ed aprire al traffico le due corsie di cui parlavo prima prego la ringrazio assessore della risposta mi compiaccio insieme agli umbri che la soluzione adottata sia meno invasiva di quella minacciata inizialmente e sono anche estremamente soddisfatto nel sentire che anche i comuni interessati avranno la possibilità di avere sistemate le strade che nel frattempo si dovessero essere rovinate grazie oggetto numero 14 dispone l'assessore Coletto interroga il consigliere Fora buongiorno presidente buongiorno alla giunta buongiorno all'assessore Coletto l'oggetto dell'interrogazione riguarda l'ospedale di Orvieto l'ospedale di Orvieto ha una peculiarità logistica penso a tutti gli Umbri nota in quanto si trova in un territorio di confine tra la Toscana l'Umbria e Lazio e ha oggettivamente un ruolo strategico nel sistema sanitario territoriale di questa regione non stiamo come dire qui rivendicando ospedali facendone una questione logistica ma oggettivamente su Orvieto c'è una struttura ospedaliera che serve un bacino d'utenza importante di oltre 70.000 abitanti che oggi ci preoccupa ci preoccupa perché come è noto il 7 marzo nonostante Orvieto fosse stato dichiarato covid free per contagi direi non più programmati è stato riconvertito parzialmente in struttura covid hospital da quel momento in poi l'erogazione di tutti i servizi ordinari dell'ospedale sono stati interrotti per evidenti motivi e da ancora oggi non riusciamo a capire quali sono gli intendimenti della giunta e dell'assessore rispetto al ripristino delle funzioni ordinarie di questo ospedale è noto che nel progetto di riorganizzazione delle strutture ospedaliere della rete ospedaliera dobbiamo puntare alla differenziazione delle funzioni qui non si sta rivendicando che in ogni ospedale ci sia tutto e che i cittadini possano e debbano ricevere tutte le prestazioni nei luoghi più vicini alle proprie abitazioni ma è evidente che l'ospedale di Orvieto come dichiarato in più occasioni anche dall'assessore in ultimo in una conferenza stampa il 14 maggio in cui insieme al commissario De Fino è stato garantito che si sarebbero ripristinate immediatamente le funzioni ordinarie della struttura ospedaliera e si sarebbero ripristinate gli interventi sia ambulatoriali che specialistici a oggi questo ci risulta che non sia avvenuto ci risulta che siano state annullate tutte le prestazioni prenotate da mesi che addirittura oggi chi si rivolge al cup di quell'ospedale riceve prenotazioni per novembre 2020 a Umbertide o a Città di Castello ci risulta che sono andati via numerosi specialisti di settori importanti come l'artrite reumatoide primari di reparti importanti come il reparto di ortopedia insomma l'impressione è che si stia procedendo a uno smentellamento della funzione territoriale dell'ospedale di Orvieto e che non ci sia una pianificazione per la ripartenza una signora ieri mi ha segnalato che un anno fa ha fissato un appuntamento per una gastroscopia era stato fissato per ieri ieri è andato l'appuntamento la gastroscopia non gli è stata fatta la risposta del cup e degli specialisti è che a oggi non vengono fatti esami all'ospedale d'Orvieto e che non si sa quando verranno ripristinati in sostanza l'interrogazione ha come oggetto la richiesta di conoscere quali sono il progetto per l'ospedale di Orvieto le azioni che si intendono mettere in campo immediatamente per il ripristino delle funzioni ordinarie dell'ospedale al termine del coronavirus e soprattutto vorremmo capire qual è il ruolo futuro dell'ospedale di Orvieto nel quadro della riorganizzazione del sistema sanitario regionale grazie assessore Coletto grazie presidente la situazione epidemiologica nazionale e regionale che comprova un sostanziale miglioramento delle condizioni epidemiche e una tenuta del sistema ha imposto un'ulteriore riprogrammazione dell'attività sia in ambito territoriale che ospedaliero per le attività sanitarie nella cosiddetta fase 3 ossia il graduale ritorno agli assetti organizzativi pre-pandemia ed il totale recupero delle situazioni preventive diagnostiche riabilitative di tutte le tipologie e per tutti quanti i pazienti con le DL 6-5-20-20 numero 33 lo scenario di riferimento è infatti cambiato radicalmente perché dal 18-5-2020 ha cessato di avere effetto tutte le misure limitative nella circolazione all'interno del territorio regionale e dal 3 giugno 2020 in quello nazionale questo consente di prevedere un completo anche se graduale ritorno agli assetti organizzativi pre-pandemia dei servizi offerti al cittadino le nuove linee di indirizzo si estrinsecano essenzialmente su tre livelli monitorare periodicamente e giornalmente l'andamento dell'epidemia progredire nell'apertura dei servizi sanitari fino all'apertura totale delle strutture garantendo che le prestazioni siano effettuate in maniera appropriata ed in sicurezza oltre che in tempi progressivamente congrui sia per le nuove richieste che per quelle da recuperare anche in attività sospese o ridotte nel periodo di lockdown mantenere la sorveglianza della popolazione attraverso la strategia delle 3T testare tracciare e trattare nella fase 1 è stato necessario sospendere le prestazioni programmate escluse quelle con carattere di urgenza non procrastinabili nella fase 2 c'è stata una ripresa progressiva dell'attività garantendo comunque la massima sicurezza per i pazienti e per gli operatori sanitari per l'ulteriore ripresa progressiva dell'attività della fase 3 sono state messe in atto tutte le misure per garantire ai cittadini l'accesso in sicurezza e consentire al personale sanitario di svolgere il lavoro rispetto delle misure preventive raccomandate focalizzando l'attenzione sull'attività ospedaliera DGR 467 del 10 giugno nell'indirizzo per la fase 3 si pone come principio per tutte le attività ospedaliere che devono essere progressivamente riprese in tutti gli stabilimenti ospedalieri come in epoca pre-covid anche l'ospedale di Orvieto quindi che in emergenza covid ha dimostrato di sapere grazie alla sua strutturazione all'esperienza del personale sanitario tutto rispondere e fronteggiare all'emergenza dovrà progressivamente ritornare ad affrontare le modalità di lavoro ordinario pronto in caso di recrudescenza della pandemia riprendere e la organizzazione imposta dall'emergenza dovrà quindi essere garantito in sicurezza con percorsi separati dei pazienti covid positivi o sospetti covid positivi e con modalità organizzative improntate a protocolli regionali condivisi subordinati all'attivazione delle misure generali di prevenzione nell'ospedale di Orvieto l'accesso al pronto soccorso per prestazioni urgenti accesso in ospedale per ricovero d'urgenza accesso in ospedale per ricovero programmato attività chirurgica accesso per le prestazioni ambulantoriali per questo riguarda per quanto riguarda i ricoveri ospedalieri si specifica che la riattivazione dei ricoveri elettivi dovrà prevedere un approccio progressivo con riprogrammazione scaglionata in base alla classe di priorità dei ricoveri afferenti alle classi B, C e D nella valutazione del rapporto rischio-beneficio in relazione allo stato clinico del singolo paziente preso atto che le prestazioni urgenti sono state sempre erogate con tempo assessore sto finendo presidente grazie con la fase 3 si procede alla riprogrammazione e all'erogazione delle prestazioni dell'attività chirurgica che hanno subito una sospensione ripresa che dovrà essere completata entro il mese di luglio per gli interventi con la classe di priorità B 60 giorni e C 180 giorni entro il mese di novembre per gli interventi con la classe di priorità di 12 mesi per quanto riguarda il futuro dell'ospedale di Orvieto non è in discussione l'ospedale di Orvieto è un ospedale SPOC manterrà il suo ruolo potrà essere solo che esclusivamente potenziato ma questo evidentemente lo vedremo scritto lo scriveremo nella fase di programmazione quindi nell'ambito corretto della gestione degli ospedali nell'ambito che va definito in maniera precisa per quanto riguarda i ruoli di idea di primo livello idea di secondo livello e quindi nell'ambito del piano sanitario piano socio-sanitario non è da mettere in dubbio quello che è il futuro visto e considerato che è un ospedale che anche in fase Covid-19 ha dato delle risposte importanti anche se non era destinato ad essere Covid-19 ma inevitabilmente può succedere che qualche paziente entri e ha il diritto di essere curato bene come è stato curato grazie grazie assessore consigliere Fora per la replica ringrazio l'assessore per l'ultima parte dell'intervento perché la mettiamo a verbale lo ospedale di Orvieto va potenziato va valorizzato nel suo ruolo strategico di quel territorio e ovviamente questo troverà spazio all'interno delle linee della programmazione del nuovo piano sanitario era quello che volevamo sentirci dire chiaramente a questa affermazione aspettiamo poi fatti concreti e soprattutto assessore le chiederei che qualsiasi strumento di programmazione verrà condotto su quel territorio venga condiviso con quelle comunità per quanto riguarda le date e gli impegni per la ripartenza io mi dichiaro non soddisfatto della sua risposta ci sono cittadini che aspettano da un anno la prenotazione di esami radiologici di entità e livello medio basso dal punto di vista dell'emergenza e anche della necessità di poterli condurre se ho capito bene lavoriamo a un ripristino forse a regime dal mese di novembre se ho capito bene la risposta beh noi da luglio a novembre dobbiamo creare le condizioni quanto meno perché 70.000 persone che abitano quelle comunità possano soffrire di servizi sanitari di primo livello quanto meno sufficienti direi ecco grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti